Un cotone biologico certificato OCS è alla base di questo filato che proponiamo in titolo 6,100 per essere lavorato sulla finezza 7. I piccoli movimenti del suo aspetto e la sua mano lo rendono protagonista di una maglieria da indossare appena usciti dai rigori dell'inverno, da proporre a tinta unita ma anche maltinta o sfumata con innovativi effetti di stampa. Accompagnato su richiesta da un cartellino che dichiara di essere realizzato con materie prime biologiche, il filato viene proposto in tinto filo con una cartella di presentazione su cui sono segnalati i colori pronti. Si realizzano colori a campione con un minimo di chilogrammi 14.